Questa è una storia di mani. Le mie mani sono il mio talento, il mio lavoro, la mia vita. Anche le mani degli educatori della Lega del Filodoro sono talento, conoscenza, vita, trasmessa loro, che con le mani ascoltano, leggono, vedono e giocano. Aiutiamoli a costruire il loro futuro in uno spazio dove possano imparare a vedere e sentire, con le loro mani. Dona adesso al 45514. I bambini sordociechi, il tuo aiuto, lo toccheranno con mano. Grazie a tutti.